Ora Gaspe com'è? Tutto a posto dai, tutto a posto Fare queste curve a quella velocità com'è? Ti mette ansia? No, però devi un attimo metterci la concentrazione Scusa, quando arrivi qua tu cosa fai? Eh, quando arrivo qua penso che devo fare la curva meglio che posso, più veloce possibile Ah, cioè, cosa pensi? Non pensi niente? Non penso niente, mi faccio trasportare dall'istinto Oh, God! Sì, questo ragazzo è il proprietario del 690 Sfortunatamente non è mio Io ho una caffettiera indiana, ma quello lo vedrete in un altro video Ah, vado a prendere in seconda Sì? Non viene, cioè, viene un po' su Prova, in seconda, quando sei... 3.000 giri, apri tutto No! Ma non si alza di colpo come di frizione, si alza la sente Poi se sei di gas, fisso, sta su C'è, non si alza di colpo, vedo Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! God! Oh, 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 God! Huh! Sì, è sempre l'agio. Grazie a tutti. E' vero, lì si è alzato un pelinino. Grazie a tutti.